Se dovessimo, come dire, trovare un momento in cui inizia la modernità, modernità intesa come il secolo nuovo, cioè il novecento, che si apriva appunto proprio in quell'anno con la grande esposizione universale di Parigi, proprio quello è il momento. L'esposizione universale di Parigi sanciva non solo il fatto che Parigi fosse stata nel corso del secondo ottocento e all'inizio di quel secolo la capitale del mondo dal punto di vista della cultura, dell'arte, dei movimenti, delle innovazioni, ma lo era anche tecnologicamente. Dal 1889 dominava lo skyline della città, la Tour Eiffel, una delle architetture della modernità, l'uso del ferro, l'uso del vetro, l'uso della luce elettrica, era nata la metropolitana, la città veniva chiamata la Ville Lumière, la città luminosa, c'era l'illuminazione pubblica, non solo, ma era stato inventato il cinema, la fotografia ormai era uno strumento artistico diffuso, non solo artistico, anche di documentazione, il mondo si era davvero trasformato. Quindi i linguaggi dell'arte, come dire, subiscono un'accelerazione, un'accelerazione nella chiave del cambiamento, anche la cultura simbolista, anche la cultura delle secessioni, in qualche modo mostra la corda e gli artisti più avveduti, più nuovi, più innovatori, pensiamo a Pablo Picasso, Georges Braque, Harry Matisse, i tedeschi, quelli il movimento della Brue, quelli gli espressionisti, tutti stanno cercando dei nuovi modi di esprimersi. L'accelerazione della società è tale per cui l'arte in qualche modo deve trovare delle strade nuove di comunicazione con il pubblico o per rappresentare, o più che rappresentare, evocare, ragionare, rivedere la realtà. E certamente questo momento, sono i primi dieci anni del Novecento, tutta una serie di movimenti, quelle che chiamiamo le avanguardie storiche, si consolida. Dapprima i cosiddetti FAUV, capitanati da Matisse, cioè le bestie selvagge, cioè la libertà del colore, l'espressionismo in un certo senso, e subito in Germania nel 1905 di Brücke, il ponte, gli espressionisti tedeschi. Espressionismo vuol dire fare il contrario dell'impressionismo, non è l'impressione dell'esterno che entra nel tuo occhio, ma è il tuo modo di vedere il mondo che trasforma la realtà e quindi deforma la realtà. I cubisti, Picasso e Braque appunto, e le sue varianti, i futuristi italiani, il manifesto di Marinetti è del 1909, il manifesto della pittura futurista di Boccioni, Balla, Severini, Carrà, eccetera, è del 1910. Entra nell'arte, nella pittura, nella scultura, nell'architettura una quarta dimensione, non è solo le tre dimensioni dello spazio, ma è la dimensione del tempo, il movimento, la compenetrazione, e tutto sta andando con una tale velocità che arriva la prima guerra mondiale. Molte di questi artisti, pensiamo ai futuristi che avevano inneggiato alla guerra come sanità del mondo, vanno in guerra, alcuni muoiono in guerra, altri muoiono in quegli anni per altri motivi, ma insomma diciamo che quel momento è una cesura tragica dell'Europa in un percorso di trasformazione profonda. E proprio mentre la guerra attraversa l'Europa e uccide milioni di persone, un gruppo di artisti provenienti da realtà culturali diverse, dalla Francia, dalla Germania, dai paesi balcanici, si trova in Svizzera, l'unico paese non coinvolto dal conflitto mondiale, a Zurigo, proprio perché non volevano andare in guerra, erano fuggiti dai loro paesi per non prendere le armi. Questo gruppo, che si trova al cabaret Voltaire, e evoca il nome del grande illuminista, appunto a Zurigo, si chiamerà Dada. Chi sono i dadaisti? E la scelta del nome lo fa già capire. Dada è un suono onomatopeico, è il verso, cioè il verso, è il suono che i bambini emettono quando cominciano a mettere insieme le prime consonanti, insomma, e soprattutto è il termine che nelle lingue slave significa sì. Ma Dada non vuol dire anche nulla, e tanto è vero che il manifesto del dadaismo è un manifesto che dichiara che l'arte è morta. Ormai in un mondo che è stato trascinato nella barbarie di una guerra mondiale, in cui non c'è nulla che non venga messo in campo per uccidere vite umane dai gas a le trincee a quant'altro, non può, come dire, sopportare il concetto che l'arte possa salvare il mondo. Non la salva. Allora ecco che questi artisti decidono di esprimersi in un modo totalmente rivoluzionario. Fra essi c'è Marcel Duchamp, e Marcel Duchamp è quel signore che vediamo scendere una scala, velocemente, in quella che viene chiamata allora la cronofotografia. C'è tante, diciamo, fotogrammi scattati da una macchina fotografica legata, diciamo, a un orologio, quindi a un cronometro, in modo tale che il movimento venga fissato in una sagoma che si muove. È il cinema, diciamo, fissato. Ora, proprio negli anni subito dopo la guerra, Duchamp dipingerà un'opera intitolato Nudo che scende le scale, che è ripreso da questa cronofotografia, che è un dipinto che Duchamp manderà in America e che crea scompiglio nella cultura statunitense che non accetta un'opera che mette insieme cubismo e futurismo, cioè un corpo ridotto a delle forme, diciamo, di solidi geometrici in movimento. Ma le avanguardie avevano ormai rotto gli argini e da quel momento lì in poi non si tornava più indietro. Grazie a tutti.